Era una soluzione inevitabile, una scelta di fatto già scritta, una scelta faticosissima, difficile. È importante che ci sia stata una maggioranza molto ampia perché io credo che adesso la Popolare Vicentina nel cammino di quotazione, di passaggio a S.p.A. poi di quotazione in borsa e possibilmente anche di aggregazioni con altri sistemi bancari avrà bisogno di una forte determinazione e di una forte coesione interna per poter far risalire anche il valore della banca e rimetterla in un cammino positivo, cosa che è mancata purtroppo in questi mesi, viste le grandi difficoltà. E il senatore Giorgio Santini si esprime molto duramente nei confronti di chi all'interno della Popolare di Vicenza ha tenuto comportamenti scorretti nei confronti dei piccoli risparmiatori. Non a caso l'ex dirigenza deve rispondere di reati molto pesanti. Un primo ragionamento riguarda le modalità tra virgolette impropie quando non truffaldine con il quale sono state vendute e quindi acquistate le azioni. Come sappiamo erano molte volte in qualche modo la condizione sine qua non per avere un prestito mutuo e per avere una partecipazione. Insomma quindi questo è un problema, c'è adesso un'indagine anche della magistratura, insomma c'è un rinvio a giudizio, ci sono accuse anche molto gravi. Si è arrivati all'associazione delinquere. Bene che la magistratura faccia fino in fondo il suo percorso. Io credo che anche per il futuro del sistema bancario questa situazione deve essere assolutamente chiarita e tutti quelli che sono stati truffati devono essere in qualche modo da chi li ha truffati risarciti.